Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dei discepoli di Emmaus nel Vangelo si dice che mentre erano in cammino Gesù in persona camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Poi più avanti, dopo averlo ascoltato e dopo che lui ha spezzato il pane a tavola con loro, invece il Vangelo dice che si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ecco, questa è l'esperienza che ti aspetta in questi giorni di esercizi spirituali. Gli esercizi spirituali possono essere l'esperienza attraverso la quale, con l'ascolto della parola di Dio, Dio stesso ci apre gli occhi per riconoscere Gesù che cammina con noi. È presente come viene rappresentato Sant'Antonio da Padova? Come si riconosce che il Santo Frate è proprio lui e non San Francesco, Padre Pio o altri Santi Frati? Sant'Antonio viene rappresentato con un bambino Gesù in braccio. E sai perché? Si racconta che verso la fine della sua vita gli fu costruita una cappella con una cella in mezzo al bosco dove lui si dedica alla preghiera, alla contemplazione della parola di Dio. Una sera il conte che gli aveva costruito tutto questo si avvicina alla cella e dalla porta socchiusa vede un bagliore. Temendo un incendio all'interno si precipita dentro la cella e con sorpresa vede Antonio dialogare con il bambino Gesù che stava in piedi sulla Bibbia. Ecco Antonio quando leggeva le scritture parlava con il Signore ed egli è apparso pure. Ed era poi uno dei più grandi oratori ed evangelizzatori. Perché ti dico questo? Perché questa è l'esperienza a cui sei chiamato anche tu. Aprire la Bibbia e incontrare il Signore, riconoscere Lui che ti parla. Aprire la Bibbia e dialogare con il Signore che si rende presente. E come si può fare? Intanto è necessario un preciso atto di fede. Dio vuole incontrarti, Dio desidera parlarti e tu devi prima di tutto avere questa convinzione, prendere questa consapevolezza. In questi giorni di esercizi Dio ha da dire qualcosa a te, alla tua vita, per illuminarla, orientarla, fartela scoprire piena del suo amore. Dio non ci lascia mai soli con i nostri pensieri, i nostri sentimenti, ma vuole che riconosciamo in noi la sua presenza e lo accogliamo. Come ad Osea dice a ciascuno di noi, ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore. Quello che noi possiamo fare allora è metterci nelle condizioni di poter ascoltare, favorire questo incontro. Si tratta perciò di cercare di creare le condizioni per farlo. Ti è stato inviato un metodo, un metodo di preghiera, una traccia che altro non è una raccolta di suggerimenti che la tradizione spirituale della Chiesa ci consegna per aiutarci a pregare bene. Qui bisogna sfatare il mito che pregare sia una cosa spontanea, da fare quando uno si sente e come gli va. Posso assicurarti per esperienza personale che non è affatto così e che seguire o no le indicazioni del metodo fa la differenza. Provo quindi in modo rapido a fare alcune sottolineature che poi troverai in modo più disteso e che potrai anche leggere e approfondire nel materiale che ti è stato inviato. Se la preghiera è un incontro con Dio, come accade tra le persone, dobbiamo fissare un appuntamento con lui. Certo poi ci sono le sorpese, gli incontri casuali, ma se voglio sicuramente incontrarmi con una persona fisso con lei un luogo e un orario. Allora la prima cosa da fare in questi giorni è fissare ora e il luogo della preghiera. Secondo i tuoi ritmi di lavoro o familiari prova in questa settimana ad individuare un momento, un luogo nella giornata che ti permetta di fare un po' di silenzio e di non essere distratto. Un tempo in cui la tua unica preoccupazione sia ascoltare il Signore che ti parla attraverso il brano suggerito e commentato dal Vescovo e che hai ascoltato al mattino. Può essere una buona cosa anche decidere quanto tempo dedicare alla preghiera. In questa settimana ti suggerisco se ti è possibile, compatibilmente con il tuo ritmo di vita, almeno una mezz'oretta ogni giorno e poi restare fedele al tempo che hai deciso, né più né meno. E dato che il silenzio è la condizione necessaria per l'ascolto, fai il possibile perché in quella mezz'oretta di preghiera appunto tu non sei distratto da niente e da nessuno. Può essere buono quindi spengere il telefonino e qualsiasi altra cosa che possa distrarti. Bene, quando poi arriva il momento che hai stabilito per pregare, puoi seguire questi altri suggerimenti. Prima di tutto raccogliersi un attimo e prendere consapevolezza di quello che sta per fare, chi stai per incontrare. Poi inizi con un semplice segno della croce e un'invocazione allo Spirito Santo. È Lui che ci mette in comunicazione con il Signore, è Lui che ha ispirato la parola, che ne è inzuppata e noi anche ne siamo pieni per il battesimo che abbiamo ricevuto. Quindi lo Spirito Santo ci mette in comunione, noi e Dio. Poi puoi esprimere al Signore un desiderio per questo incontro con Lui, che magari ti è stato suscitato dal commento del Vescovo e al tempo stesso anche dire al Signore che però lo lasci libero, di dirti quello che Lui desidera, che sia Lui a dirti quello che è meglio per te. Un vero ascolto infatti richiede di essere disposti a non ascoltare non solo quello che noi vogliamo sentirci dire, ma quello che l'altro vuole dirci, al di là che ci possa piacere o meno. A questo punto il nostro cuore dovrebbe essere libero e aperto per ascoltare il Signore e possiamo prendere in mano, il brano, che abbiamo ascoltato la mattina e leggerlo. Qui ti consiglio di leggerlo più volte, con calma, con la consapevolezza che dietro ogni parola c'è il Signore che desidera dirti qualcosa e se c'è una parola, una frase che ti colpisce magari la sottolini con un lapis e poi la ripeti più volte e più volte in modo che possa scendere in profondità dentro il tuo cuore. Mi sembra importante ricordarti a questo punto che non preghiamo per raccogliere informazioni su Dio o per capire tutto, né tantomeno per sapere immediatamente che cosa dobbiamo fare. Perché tutto questo potrebbe farci scivolare su una preghiera razionalistica o moralistica, mentre il nostro desiderio è incontrare Lui, gustare la Sua presenza, ascoltare la Sua voce. Sant'Ignanza di Loyola infatti diceva, non è il molto sapere che sazia l'anima, ma il sentire e gustare interiormente. Può darsi che tutto quello che ti sto dicendo non sia immediato, soprattutto quando proviamo a pregare così le prime volte. Può essere utile a loro ogni tanto durante la preghiera, se fai un po' di fatica, se ti sembra arida, ripetere al Signore quello che Elì suggerì di dire a Samuele la prima volta che udì la voce del Signore. Parla Signore, il tuo servo ti ascolta. Ripeterlo così per entrare un po' in dialogo con il Signore e poi riprendere in mano il brano, rileggerlo e rileggerlo ancora. Solo dopo aver letto e ascoltato più volte il brano, rivolgiti al Signore. Parla a Lui con semplicità di quello che hai ascoltato, di quello che ha mosso nel tuo cuore, i pensieri che ti sono venuti, i sentimenti che hai provato, le cose che magari ti sembrano difficili da vivere, le cose che ti hanno sorpreso, qualche cosa che hai avvertito o che ha toccato il tuo cuore. Parlane con Lui. Può essere stato un momento ricco di ispirazioni oppure arido, un tempo passato velocemente oppure no. In ogni caso ringrazia il Signore per questo tempo trascorso insieme. A questo punto puoi concludere con un Padre nostro e anche invocando la Madre di Dio o i Santi che ti sono cari. C'è poi una cosa importante da fare che penso trascuriamo prima di riprendere le attività quotidiane e cioè provare a vedere che cosa è accaduto tra te e Dio in questo tempo di preghiera. E forse può essere utile per questo le trovate anche sul foglio rispondere a qualche domanda. Prima di tutto la più semplice, com'è andata? Ho osservato il metodo e i suggerimenti che mi sono stati dati? Che cosa mi ha aiutato ad essere presente alla preghiera? Cosa invece mi ha ostacolato? Ecco queste prime domande ti possono aiutare a ripetere le cose che ti hanno dato e invece a cambiare quelle che ti hanno ostacolato. Il giorno dopo magari cerchi se il posto non era adatto, se l'orario non era buono, cambiare queste semplici cose. Magari avevi dimenticato il cellulare acceso allora ti ricordi di spengelo, così, proprio osservazioni su come è andata e poi più importante ancora invece provare a rispondere a quest'altra semplice domanda. Cosa mi pare che il Signore abbia voluto dirmi in questo tempo di preghiera? In merito a Lui, al suo amore, al suo volto, in merito a chi sono io per Lui? Quali sono stati i pensieri e i sentimenti principali che mi sono stati suscitati in questo momento di preghiera ascoltando questa parola. È una sorta di verifica di questo incontro. È importantissimo in questo momento qua non darsi la pacella, non fare una valutazione così come se fossimo dei professori di noi stessi su come è andata la nostra preghiera, ma più semplicemente provare a registrare ciò che è accaduto. Può essere utile, e te lo consiglio, appuntare qualcosa su un quaderno, appuntare tutto quello che è emerso, in modo che se vorrai potrai poi confrontarti con una guida spirituale, il tuo parro o qualcuno che ritieni possa aiutarti nella tua relazione con Dio nel tuo cammino di fede. Ecco questo è un po' il metodo che ti viene suggerito per pregare in questa settimana con la parola di Dio, per metterti davanti a Lui, per incontrarlo, per disporti a questo incontro. E prima di salutarti desidero incoraggiarti proprio a trovare il tempo per questo momento personale con il Signore, a non accontentarti di ascoltare semplicemente i video del Vescovo e la parola che viene letta. So che non è facile durante la vita quotidiana, ma se riesci a farlo vedrai che potrà essere il momento più importante di questi esercizi. Di fatto i commenti del Vescovo e tutti gli altri contributi che ti saranno offerti sono a servizio del tuo incontro personale e intimo con il Signore. Il Signore ti benedica e lo Spirito Santo accenda in te il fuoco del suo amore. In questi giorni preghiamo gli uni per gli altri. Buoni esercizi nella vita quotidiana.